Salve a tutti, sono Raffaele Colaizzo, siamo al secondo incontro del nostro modulo sul monitoraggio di programmi e progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus. In questo incontro parliamo del monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus e quindi entriamo nel merito di dati, indicatori e target che riguardano appunto il monitoraggio del Fondo Sociale Europeo nel 21-27. Ricordate che nel primo incontro abbiamo dato delle definizioni e delle regole essenziali sul monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di programmi e progetti, qui entriamo nel merito, come vi dicevo, come vi anticipavo, del monitoraggio degli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus parlando di dati indicatori e target. E vediamo allora come si caratterizza il monitoraggio del Fondo Sociale Europeo Plus. Ecco, parliamo in particolare di specificità che riguardano l'esecuzione fisica degli interventi. Ecco, noi abbiamo, ricordate che ne abbiamo parlato nel primo incontro, degli indicatori comuni che vengono specificati direttamente dai regolamenti dei fondi. In particolare il regolamento 10-57 del 2021, quello che riguarda l'FS Plus, ha quattro allegati che elencano degli indicatori comuni. Il primo allegato riguarda gli indicatori comuni per il sostegno generale in regime di gestione concorrente. Ricordiamo che il Fondo Sociale Europeo ha una piccola quota in gestione diretta e indiretta, piccola dal punto di vista della dotazione, ma è importante dal punto di vista delle sperimentazioni che permette. Quindi l'allegato 1 riguarda gli indicatori per il sostegno generale nell'ambito della gestione concorrente. L'allegato 2 riguarda gli indicatori comuni per le azioni mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti. L'allegato 3 riguarda gli indicatori comuni specifici per contrastare la derivazione materiale. L'allegato 4 riguarda gli indicatori per la componente occupazione e innovazione sociale che riguarda quella gestione diretta e indiretta di cui vi dicevo. Una caratteristica specifica degli indicatori dell'FS Plus è quella di essere suddivisa per quanto riguarda in particolare gli indicatori comuni di output fra indicatori relativi ad operazioni rivolte a persone e indicatori relativi ad operazioni rivolte ad enti. Qui in particolare approfondiamo i contenuti dell'allegato 1 del regolamento 1057, quello che riguarda gli indicatori comuni per il sostegno generale. Ecco ad esempio indicatori comuni di output relativi ad operazioni rivolte a persone sono i disoccupati di lungo periodo coinvolti in attività di formazione professionale. Ripeto questi sono esempi, i giovani fra 18 e 29 anni ad esempio coinvolti in iniziative di autoimpiego appartenenti a comunità marginate coinvolti in percorsi di inclusione sociale. Quando parliamo di indicatori di output comuni relativi ad operazioni rivolte a 20 ci riferiamo ad esempio a pubblica amministrazione e servizi pubblici sostenuti oppure a micro, piccole e meno imprese sostenute comprese le società cooperative e le imprese sociali. Ricordiamo che anche l'FS Plus naturalmente può partecipare a misure di aiuto delle imprese, in particolare ad esempio nel caso specifico di imprese sociali, di società cooperative o di imprese nascenti create da giovani. Un'altra caratteristica specifica degli indicatori dell'FS Plus è quello di distinguere gli indicatori comuni di risultato fra breve periodo e lungo periodo. Ad esempio indicatori comuni di risultato di breve periodo sono i partecipanti impegnati nella ricerca nel lavoro al termine dell'attività, partecipanti che ottengono una qualifica al termine dell'attività, partecipanti che conseguono il lavoro al termine dell'attività. Quindi quando diciamo al termine dell'attività diciamo appena usciti dalla misura di formazione, di accompagnamento di politica attiva del lavoro. Abbiamo anche degli indicatori di cosiddetti di lungo periodo, ad esempio i partecipanti che conseguono un lavoro sei mesi dopo il termine dell'attività, partecipanti con una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo il termine dell'attività. E quindi questa è una caratterizzazione specifica, questa ripartizione è una caratterizzazione specifica degli indicatori del Fondo Sociale Europeo Plus. Ecco naturalmente ricorderete sicuramente dal nostro incontro precedente che oltre agli indicatori comuni, che sono quelli specificati nel regolamento, abbiamo anche, possiamo avere anche degli indicatori specifici. Insomma, le autorità di programmazione quando hanno ritenuto che rispetto alle misure che hanno inserito nei programmi gli indicatori comuni non fossero sufficienti a rappresentare adeguatamente gli avanzamenti fisici in particolare, in particolare degli interventi, allora avevano la facoltà di identificare degli indicatori specifici. La gran parte però, devo dire, poi degli indicatori che noi troviamo nei programmi sono degli indicatori comuni. La gran parte, non tutti, ma la gran parte sono indicatori comuni. Ecco, queste sono le liste, una lista più completa, nella strada precedente abbiamo dato degli esempi, questi sono gli indicatori comuni di auto, quindi in particolare dell'allegato 1, che è quello che riguarda il sostegno generale, ecco, qui insomma non li leggiamo tutti, però vedete, per quanto riguarda gli indicatori degli indicatori relativi a partecipanti, andiamo dal numero complessivo dei partecipanti ai disoccupati di lungo periodo, alle persone inattive, al numero di giovani d'età compresa tra 18 e 29 anni che hanno partecipato ad attività, ad esempio, di formazione di politica attiva del lavoro, o ancora partecipanti con disabilità, cittadini di paesi terzi, senza tetto a persone colpite da esclusione abitativa, e chiaramente questo è un indicatore riguardo agli interventi sull'inclusione sociale. Ecco, vedete, quindi una batteria abbastanza ampia di indicatori comuni che le amministrazioni, poi titolari dei programmi, insomma, hanno inserito nelle loro tabelle, insomma, dei programmi. Per gli enti abbiamo numero di pubbliche amministrazioni e servizi pubblici sostenuti, numero di piccole, piccole e medie imprese sostenute. Ecco, naturalmente gli indicatori di out-out si riferiscono a progetti conclusi. Quando io ho un progetto concluso, allora il valore dell'indicatore di out-out all'indicatore di out diventa rilevante. Ovviamente vanno tutti quantificati, come vengono quantificati? Attraverso rilevazioni amministrative. Ad esempio, al termine della realizzazione di una misura di formazione, io verifico quanti sono i partecipanti che hanno preso parte alle attività e sono in grado di dare una quantificazione effettiva dell'indicatore di out-out. Ecco, vedete inoltre come ciascun indicatore è contrassegnato da un codice, che io poi trovo anche nelle tabelline che specificano questi indicatori nel programma. Per esempio, il numero 1, il numero complessivo dei partecipanti, ha il codice EECO01, disoccupati in lungo periodo EECO03 e così via. Hanno una codificazione comuna, insomma. Lo stesso per gli indicatori comuni di risultato. Abbiamo detto, si distinguono fra indicatori di risultato immediato per i partecipanti e indicatori di risultato a lungo termine per i partecipanti. E quindi, anche questi hanno dei codici, ad esempio, EECO01 sono i partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento, EECO03 sono i partecipanti che ottengono qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento, qui stiamo parlando di indicatori di risultato immediato, Ancora, invece, se guardiamo quelli a lungo termine, EECO05 sono i partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento, EECO06 sono i partecipanti che godono una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento. Anche di negato risultato, ovviamente, si riferiscono a progetti conclusi, vanno misurati quando il progetto è concluso, naturalmente vanno anche misurati o stimati, previsti ex ante, ma poi la quantificazione finale va fatta sul progetto concluso, naturalmente vanno quantificati, vengono calcolati attraverso rilevazione d'indagini specifiche, in alcuni casi possono anche essere calcolati su base campionaria, questi regolamenti lo prevedono esplicitamente. Ecco, dove trovo gli indicatori nei programmi? Allora, ho delle tabelle specifiche, in particolare per ciascun obiettivo specifico io ho una tabella 2 che riguarda in particolare gli indicatori di output e quindi per ciascun obiettivo specifico trovo l'informazione che riguarda gli indicatori di output. Come è organizzata l'informazione in queste tabelle? In particolare partiamo dagli indicatori di output. ho la priorità e con il caso specifico io a puro titolo di esempio ho considerato la priorità occupazione del programma FS Plus 2021-2027 della provincia autonoma di Bolzano, in particolare sono nell'ambito dell'obiettivo specifico 4.1 migliorare l'accesso all'occupazione e quindi io ho la prima informazione che riguarda la priorità e la priorità occupazione. L'obiettivo specifico è il 4.1 migliorare l'accesso all'occupazione, il fondo, l'FS Plus, la categoria di regioni e quella delle più sviluppate. Ricordate che le categorie di regioni nella programmazione 21-27 sono tre, quelle più sviluppate, quelle in transizione, quelle meno sviluppate. Noi siamo nell'ambito di una regione classificata come più sviluppata. ho l'identificativo dell'indicatore di output, nel caso specifico è ECO02, la denominazione dell'indicatore disoccupati, compresi disoccupati in lungo periodo, l'unità di misura, sono persone, e poi ho i target. Ecco, queste tabelline stanno nel programma, come abbiamo detto. Nel programma io devo fare delle previsioni su quello che intendo realizzare in termini di output. Queste previsioni riguardano un target intermedio al 2024 e un target finale al 2029. Ecco, nel caso specifico, qui ho che i disoccupati che verranno trattati nell'ambito dell'obiettivo specifico 4-1, migliorare l'accesso all'occupazione, si prevede che saranno 582 entro il 2024, 2328 entro il 2029. Questi, insomma, è anche inutile ribadirlo, sono dei valori programmati. Il monitoraggio, poi, nel corso del tempo, man mano che i vari progetti si concludono, servono a capire se questi target sono effettivamente realizzati, se ci sono degli scostamenti, che possono essere scostamenti in diminuzione, ma potrebbero benissimo anche essere degli scostamenti in aumento. Ecco, e quindi l'attività di monitoraggio è fondamentale, perché mi permette, ripeto, progressivamente di capire se questi target sono effettivamente rispettati. E vedremo come questo poi ha anche delle conseguenze, sostanzialmente, il fatto che questi target siano effettivamente rispettati. Poi, insomma, questo lo vedremo nel prossimo modulo. Ecco, un ragionamento sostanzialmente analogo vale per gli indicatori di risultato nei programmi. Qui io, per ciascun obiettivo specifico, ho una tabellina dedicata, la tabella 3. I dati che vedete, insomma, in questa tabella sono anche questi, a scopo del tutto esemplificativo, tratte dal programma FS Plus 2127 della provincia tonora di Bolzano. Anche qui sono nell'ambito della priorità occupazioni, obiettivo specifico 4.1, fondo FS Plus, categoria di regione più sviluppata, l'identificativo, qui ho l'indicatore ECR05, che partecipanti, che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento. Quindi stiamo considerando un indicatore di lungo periodo, come lo denominano i regolamenti. Le unità di misura sono le persone, poi ho un valore di base, in sostanza per gli indicatori di risultato è necessario specificare il valore dell'indicatore nell'anno base, e poi la differenza tra target finale e valore all'anno base ci dà una misura e progresso previsto, in particolare l'anno base io lo guardo nel 2021, e poi ho un target finale, che nel 2029, ricordate per gli indicatori di output abbiamo anche un indicatore intermedio, nel caso di indicatori di risultato abbiamo soltanto un target finale a 2029, 895, questo è l'obiettivo quantificato di potenza, da raggiungere alla fine del periodo di attuazione. Anche in questo caso il monitoraggio è fondamentale, nel corso dell'attuazione del programma, per capire se progressivamente ci stiamo avvicinando a questo target finale, oppure se non ci stiamo avvicinando, l'amministrazione può trarne delle conseguenze rispetto a interventi di miglioramento dell'efficacia degli interventi. Ecco, è importante anche accennare a questa fonte di informazione, che sono le schede informative sugli indicatori. Insomma, noi abbiamo visto delle denominazioni un po' semplificate, sostanzialmente, degli indicatori partecipanti che trovano un lavoro sei mesi dopo la conclusione dell'intervento, insomma, ecco, sono le denominazioni che abbiamo visto finora sono piuttosto semplici. In realtà, diciamo, queste denominazioni sono poi accuratamente specificate, in particolare in un documento della Commissione Europea, il toolbox sugli indicatori comuni dell'FS+, ecco, vedete qui anche il link per accedere a questo documento. In questo toolbox io trovo indicazioni generali sulle caratteristiche degli indicatori, sui processi di raccordazione, raccolta, elaborazione, trasmissione e protezione dei dati e trovo delle schede specifiche sui singoli indicatori che sono particolarmente importanti. Queste schede danno indicazioni relative alla definizione degli indicatori, all'unità di misura, all'articolazione e subinformazione, alle modalità di calcolo e così via. Quindi, insomma, ripeto, gli indicatori in realtà sono molto ben definiti, non si limitano, insomma, a quelle denominazioni, insomma, a quei titoli un pochino astratti, ma sono invece, come dire, densi di significato. Ecco, questo è un esempio di definizione degli indicatori tratto dal toolbox, ve lo mostro soltanto un po' a scopo orientativo. Ecco, per ciascun indicatore io ho una definizione, unità di misura, un target finale, un valore di riferimento, una ripartizione per genere e per categoria di regioni, la giustificazione, le modalità di raccolta dei dati, la frequenza di trasmissione dei dati, poi su questo torneremo, e i collegamenti fra i vari indicatori. Ecco, qui vi segnalo soltanto due passaggi, molto brevemente, nella definizione, vedete, si entra nel merito particolare, la definizione dei lavoratori che hanno ricevuto il sostegno dell'FS plus e che sono passati da un'occupazione precaria a un'occupazione stabile o dalla sottoccupazione alla piena occupazione e quindi immediatamente dobbiamo chiarire che cos'è ad esempio l'occupazione precaria e il toolbox lo fa, occupazione temporanea, contratto di lavoro a tempo determinato e così via. Quindi vedete che poi l'applicazione e la definizione degli indicatori è tutt'altro che banale. Infatti poi le amministrazioni quando hanno scritto i loro programmi hanno elaborato delle note ad hoc su questo tema. Ecco un altro passaggio che vi, tra i molti interessanti che vi sottolineo in questa slide è quello della raccolta dei dati e qui ci dice insomma il toolbox quello che vi accennavamo in precedenza si può anche utilizzare una stima basata su un valido metodo statistico che potrebbe richiedere un'indagine quindi non è necessario raccogliere i dati per ciascun singolo partecipante cosa che potrebbe anche essere molto gravosa. Ecco in questa slide vediamo un po' una sintesi sulle regole di quantificazione degli indicatori dell'FSE plus sono questioni che abbiamo esaminato categorie abbiamo indicatori comuni di output e di risultato ma possiamo anche avere indicatori specifici per programma le modalità di quantificazione di output con valori di base fissati a zero il valore intermedio e valori obiettivo accumulativi quantificati espressi in valori assoluti quindi non in percentuali per quanto riguarda gli indicatori di risultato qui invece il valore obiettivo può anche essere espresso in percentuale ad esempio la quantità di partecipanti ad un'attività che hanno trovato lavoro sul totale e quindi vedete questa è una percentuale possibile anche esprimere gli indicatori di risultato in questo in questo modo ecco con questo abbiamo terminato insomma questo incontro di approfondimento sugli indicatori dell'FS plus ecco naturalmente noi abbiamo parlato di indicatori fisici nel senso che per quanto riguarda gli indicatori finanziari sia le variabili sia gli indicatori in senso stretto in realtà non cambiano tra i fondi e quindi avrò sempre ad esempio le percentuali di avanzamento in termini di impegni sul valore dei programmi o di pagamenti sui costi dei programmi anche dal punto di vista dell'esecuzione procedurale quello che cambia naturalmente è la tipologia delle fasi ma non cambia la razionalità del monitoraggio procedurale nel senso che sia nel FES sia nell'FS plus io scompongo in fasi un determinato processo di attuazione e attraverso il monitoraggio verifico se quelle fasi sono realizzate in maniera coerente e consistente con i tempi che erano stati programmati con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo incontro grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.